Poi l'ultima parte è il Teatro Carignano, ancora più il trio come siamo stasera, andiamo sempre più nell'essenziale, al Teatro Carignano a pianoforte solo con un balletto però di eventi della scuola di danza Archea. Abbiamo fatto questa serata molto bella e di cui nel DVD, visto che si chiama Live from Milan, quindi non Torino, invece lì eravamo a Torino, ho messo un pezzo, un finale perché mi sembrava particolarmente interessante, bello, che si chiama Notte Luminosa.